Musica Edizione della sera del Tg Versilia, ben ritrovati con la nostra informazione. In primo piano c'è la pagina di cronaca, ladri in azione a Bozzano, comune di Massarosa, con un colpo che sfiora e 50 mila euro, hanno fatto saltare in area il bancomat della Cassa di Risparmio di Lucca. Vediamo le immagini. La notte scorsa intorno alle 4, i gnoti hanno fatto saltare il bancomat della Cassa di Risparmio di Lucca sulla via Sarzanese a Bozzano e poi sembrerebbe che si siano allontanati con uno BMW. Il bottino potrebbe aggirarsi intorno ai 50 mila euro, visto che i banditi sono riusciti a svuotare, a prelevare parte del denaro che era contenuto. Con l'esplosivo l'hanno, l'hanno, l'hanno fatto saltare. E qui vicino nessuno ha sentito o visto niente? No, almeno che io sappia, no. Io sono arrivato dopo, però non credo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati dai carabinieri, per cercare di evitare che le fiamme, in merito all'esplosione, potessero in qualche modo danneggiare ulteriormente la struttura. Non è la prima volta che l'istituto bancario viene preso di mira dai malviventi, anche con delle rapine. Sono in corso indagini per capire chi possa essere stato l'autore di questo gesto. Già nella provincia di Lucca sono stati diversi i bancomat presi di mira da banditi nella notte, che lo hanno fatti esplodere e poi, in qualche modo, sono riusciti anche a prelevare il denaro che c'era contenuto. Ancora la cronaca. Con un colpo al mercato della droga, la polizia di Forte Remami ha sgominato una banda di marocchini che operava nel parco della Versiliana. Vediamo. È stata sgominata la banda di nordafricani che spacciava giorno e notte, estate e inverno all'interno del parco della Versiliana. Si tratta di cinque giovani marocchini tra i 21 e 29 anni. Si alternavano nei luoghi di spaccio, emergendo dalla vegetazione, per consegnare, dopo un rapido contatto, le dosi richieste dagli acquirenti, quasi sempre cocaina. Ad inchiodare il gruppetto di pusher sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Forte Remami, che hanno immortalato gli scambi di dosi ai margini della pineta. Un'attività aperta quotidianamente dalle 10 alla mezzanotte, concentrata soprattutto su Via del Barcaio, al confine nord del parco. L'operazione dei poliziotti è partita dall'arresto di un 23enne marocchino nel novembre scorso, che al momento si trova in carcere a Lucca. È stata la scientifica ad effettuare riprese fotografiche e video, mediante l'utilizzo di telecamere, alcune delle quali messe a disposizione dalla Polizia Municipale di Pietrasanta, dislocate in prossimità di punti di Via del Barcaio, dove si concentrava l'attività dei malviventi. Numerosi gli acquirenti fermati, tutti italiani residenti in Versilia, che una volta ascoltati, hanno consentito agli investigatori di dare un volto e un nome ai loro spacciatori. Tre ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. Per i cinque spacciatori marocchini, il GIP di Lucca ha stabilito l'obbligo di soggiorno e di firma presso gli uffici di polizia. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Monte di Ripa, nel comune di Seravezza. Tutta la notte hanno lavorato i vigili del fuoco, i volontari delle associazioni e della protezione civile per spengere le fiamme. Elicotteri in azione anche nella giornata di venerdì, in questo pomeriggio, sul Monte di Ripa per spegnere l'incendio, località Lavacchino, spente sul versante mare. Le fiamme sono state poi oggetto di azione degli elicotteri sul versante di Seravezza, dove l'incendio è sconfinato a causa del vento nel corso della notte. Zona impervia che non consente alcun accesso da terra, solo con gli elicotteri che vedete in queste immagini. Le opere di spegnimento si possono portare avanti soltanto con questi mezzi. Non ci sono abitazioni nella zona, questa è la notizia rassicurante, quindi non ci sono case e persone coinvolte. Sul posto sono intervenute le forze della regione toscana con gli elicotteri che vedete in queste immagini, Polizia Municipale, Protezione Civile di Seravezza e il Sindaco Riccardo Tarabella. Un uomo di 74 anni, di Levigliani, stazzema, è caduto nella mattinata, si è procurato vari traumi, è stato notato da una signora, lo hanno visto sanguinante a terra e hanno dato l'allarme. È intervenuta sul posto un'ambulanza della pubblica assistenza di Ponte Stazemese e l'elicottero Pegaso con il quale è stato trasferito un codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto intervenuti anche i carabinieri. È stato revocato il divieto di balneazione a Marina di Pietrasanta e il Vice Sindaco Daniele Mazzoni, visti i risultati positivi delle controanalisi eseguite da Arpat, ha firmato l'ordinanza che ripristina la balneabilità delle acque nel tratto di circa 500 metri di motrone interdetto da lunedì, come ricorderete, ai bagni in mare. Il Comune di Pietrasanta aveva sollecitato in questi giorni l'avvio della sperimentazione per la diffusione di acido peracetico per evitare i divieti anche alle foci dei fiumi Motrone e Fiumetto. Veniamo adesso alla politica, ultime, ultimissime ore di campagna elettorale, poi domenica tutti al voto a Forte Remarmi e a Camaiore, dunque ultimi momenti per fare propaganda, ma anche ultimi momenti di polemica politica, in particolar modo a Forte Remarmi. Sentiamo. 48 ore circa separano Forte Remarmi dal voto, oltre ai 6.000 elettori chiamati a scegliere il successore del due volte sindaco Umberto Buratti. I quattro candidati stanno chiudendo la lunga campagna elettorale, tra feste in piazza e le ultime polemiche. A celebrare davanti al Fortino la fine dei comizi, con due serate show, sono stati Michele Molino e Bruno Murzi. Il primo ha chiamato i suoi sostenitori giovedì sera, accompagnato dalla musica di Dino Mancino e dagli sbandieratori e musici del Ponte. La sera prima è stato il cardiochirurgo della lista Noi del Forte, Murzi, a salutare una folla di simpatizzanti tra street food, trampolieri e DJ set. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale pesantemente basata sul sociale. Noi non vogliamo che nessun Forte Marmino rimanga indietro. Vogliamo veramente aiutare le famiglie dei Forte Marmini e i Forte Marmini tutti. Quindi è su quello soprattutto che batteremo in questi giorni. È stata una campagna bella, ci sono stati dei momenti difficili. Noi siamo riusciti a superare delle fasi che potevano per noi essere critici e siamo cresciuti molto all'interno del Paese. Se il caso dell'aggressione ai danni del candidato del centrodestra Gianpaolo Bramanti per mano di venditori abusivi non fosse bastata, ci ha pensato la candidata di Fuxia People, Maria Teresa Baldini, a riscaldare il finale di campagna elettorale. La consigliera regionale ha presentato denuncia contro il Comune per aver ostacolato il regolare svolgimento dell'ultimo giorno di propaganda facendo smontare il palco dal quale gli altri candidati avevano parlato per lasciare spazio alle Wings. Alla fine un accordo però è stato trovato. Chiusi i comizi e quindi le polemiche, i Forte Marmini sono chiamati al voto domenica dalle 7 alle 23. Avete sentito, si vota domenica e dunque si tornerà al voto in due comuni della Versilia, 5 in provincia di Lucca. Sentiamo le indicazioni. Nella nostra provincia, domenica 11 giugno, sono chiamati alle urne i cittadini dei comuni di Lucca, Bagni di Lucca, Camaiore, Porcari e Forte dei Marmi. Si vota solo domenica ed i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti, Forte dei Marmi, Bagni di Lucca e Porcari, sulla scheda è stampato il nome del candidato sindaco con accanto il contrassegno della lista che lo sostiene. Il voto per il primo cittadino e quello per il consiglio sono uniti. Votare per un candidato sindaco significa quindi dare automaticamente la preferenza alla lista che lo appoggia. Per quanto riguarda Lucca e Camaiore, le opzioni sono tre. Tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest'ultimo appoggiato, tracciando un segno sul simbolo di una lista, eventualmente indicando anche la doppia preferenza di genere. Tale possibilità consente di esprimere due preferenze per i consiglieri comunali purché riguardanti i candidati consiglieri di sesso diverso e appartenenti alla stessa lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata. Così facendo si ottiene il cosiddetto voto disgiunto, tracciando un segno solo sul nome del sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate. A Luccheca Maiore è eletto il sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, almeno il 50% più 1. Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia, si tornerà a votare domenica 25, per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. Come per ogni tornata elettorale, la nostra emittente seguirà lo svolgimento dello scrutinio con una lunga diretta, che inizierà alle 22.30, per proseguire fino a tardanotte. Via Reggio e Pietrasanta escono dalla Società della Salute della Versilia. L'atto formale che dovrà essere approvato dai rispettivi consigli comunali è stato deliberato oggi dalle due giunte. Un provvedimento che di fatto spiegano le amministrazioni, Via Reggina e Pietrasantina, sancisce lo scioglimento della Società della Salute stessa, costituita nel 2009, di cui fanno parte fino ad oggi i sette comuni della zona sociosanitaria versiliese. Dalla società fanno sapere che dal comune di Via Reggio arrivavano meglio oltre 100.000 euro annui solo per i costi di gestione. Cambiamo argomento, parliamo di ambiente. Crolla la produzione di rifiuto indifferenziato a Stazzema. Con l'estensione della raccolta di prossimità, l'immondizia da conferire in discarica, dunque non riciclabile, è calata del 25% in Alta Versilia. Il servizio è stato allargato dal 1 di maggio nei paesi di Arni, Terrinca, Levigliani, Retignano, Mulina, Farnocchia, Pomezzana e Stazzema. Frazioni che si sono così adeguate ai paesi del Fondovalle già interessati dal servizio, ovvero Ruosina, Ponte Stazzemese, Gallena, Cardoso, Pruno e Volegno. Questo dato andrà a beneficiare sulla bolletta e sulle tariffe che dovranno calare, hanno spiegato dal comune di Stazzema. Ancora la cronaca, adesso invece parliamo di lavori, lavori sulle colline di Pietrasanta con interventi sulle fognature. Un confronto tecnico per risolvere l'annoso problema delle fognie a monte, stoppa, sversamenti e cattivi odori con cui gli abitanti di Capezzano, Monte e Capriglia sono costretti a convivere. E' questo l'esito del sopralluogo, vedete, del vice sindaco di Pietrasanta, Daniele Mazzoni, che si è recato sulle frazioni collinari con l'obiettivo di fare il punto sugli interventi necessari per separare la fognatura nera dalla fognatura bianca per evitare lo sverso di acque scure nei terreni e migliorare la qualità della vita dei residenti. Incontro che è nato dopo le segnalazioni da parte dei cittadini stessi in un incontro che la Giunta aveva organizzato in paese. Ho lasciato che a dare indicazioni ai tecnici fossero gli stessi residenti, ha spiegato il vice sindaco, infatti sul posto anche i tecnici comunali e di Gaia. E ha spiegato Mazzoni, la questione va affrontata con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti senza scarica barile. Parliamo di sicurezza sulle strade. Adesso l'associazione Il Sorriso di Elisa, in ricordo della giovane versiliese scomparsa due anni fa dopo un tragico incidente all'Idro di Camaiore, ha portato ancora una volta i termini della sicurezza in strada nelle scuole della Versilia e della provincia di Lucca. Un progetto icaro che è terminato. Sentiamo allora il nostro servizio. Tanti bambini alla giornata conclusiva del progetto Icaro dedicato alla diffusione della sicurezza stradale tra i più piccoli. Gli alunni della scuola Don Milani di Sant'Anna, nel piazzale della sede della Polizia Stradale di Lucca, hanno messo in pratica quanto imparato durante le ultime settimane nel corso di speciali lezioni in aula. Quest'anno il progetto era supportato dalla Fondazione Via Regina Il Sorriso di Elisa. Questa fondazione nasce in nome di mia figlia a seguito della scomparsa di un incidente stradale avvenuto l'8 giugno di due anni fa. Noi lavoriamo nelle scuole e cerchiamo di fare formazione e prevenzione per tutto quello che riguarda l'educazione stradale. Sono due anni che lavoriamo appunto su Via Reggio e su Lucca in collaborazione con la Polizia Stradale e con un'equipe di attori e psicologi e cerchiamo di portare a conoscenza ragazzi di quello che è importante nella vita, l'attenzione, la scelta e soprattutto l'educazione. Questa mattina i bambini della scuola Don Milani, le due classi quarte, dopo diversi incontri che abbiamo fatto nelle aule a livello teorico, stamattina hanno la possibilità sul percorso qui presso la nostra caserma di mettere in atto un po' le regole che gli abbiamo spiegato in questi vari incontri. Lo scopo nostro è la prevenzione, cioè di educare già dai bimbi, dalla giovane età, perché poi saranno i futuri conducenti del domani, nel pieno rispetto delle regole. Il rispetto delle regole, l'importanza del rispetto delle regole ed evitare quei comportamenti pericolosi che spesso sono la causa degli incidenti stradali. La cultura adesso è affidata ad Alfonso Signorini, la regia della Turandotto 2017, l'allestimento del Festival Puccini di quest'anno e ci sono state le selezioni per le comparse a Viareggio, proprio di fronte agli occhi del celebre opinionista tv e giornalista. Vediamo. 100 candidati per poco più di 20 posti disponibili, ecco le aspiranti comparse della Turandotto, nuova produzione del Festival Puccini di Torre del Lago con la regia di Alfonso Signorini. Ed è stato proprio lo scrittore e giornalista milanese a coordinare il casting all'Hotel Palace di Viareggio, al fianco del presidente della Fondazione Alberto Veronesi, che dirigerà l'opera nelle messe in scena del 14 e 23 luglio. Solo tre i posti da comparsa per le donne, una ventina per gli uomini, questo è il gruppo che rappresenterà la Guardia Imperiale, una Turandotto che il maestro Veronesi vuole più popolare. Uno spettacolo che deve avvicinare le persone, diventare più popolare. Noi abbiamo bisogno che l'opera lirica diventi sempre più popolare, sempre ritornare nel DNA, perché nel DNA c'è, è nata da noi italiani e anche deve diventare sempre più uno spettacolo delle persone, uno spettacolo vicino alla gente. A fare gli onori di casa, insieme al direttore Franco Moretti, anche l'assessore alle politiche culturali, Sandra May, che ha dato l'appuntamento a Signorini per il 14 luglio, serata della prima. Una mostra che unisce arte, passione per il buon vino italiano e toscano e la nostra Versilia, al campanile di Pietrasanta. Vediamo. Nature oniriche che incantano, ipnotiche e sognanti. Sono le opere di Paolo Lazzerini, artista pietrasantino, figlio d'arte, protagonista nella suggestiva e naturale galleria del campanile del Duomo di San Martino, con la mostra dal titolo Serena è la notte, patrocinata dal comune di Pietrasanta. Un percorso artistico nato dopo un lungo viaggio in Cina, dove Lazzerini ha portato la sua pittura e i paesaggi che raccontano Pietrasanta e la Versilia, che in Oriente hanno conquistato tutti. Le sue opere potranno essere ammirate fino al 30 giugno, all'interno di quel campanile pieno di misteri, commissionato dalla collegiata di San Martino, caratterizzato dalla scala elicoidale, attribuita da alcuni studiosi a Michelangelo Bonarroti. I suoi dipinti sono stati talmente apprezzati dal mercato cinese da ispirare all'etichetta di una casa vitivinicola del Chianti, che esporta nella grande Cina la sua produzione, dando vita ad un connubio perfetto tra arte, vino e la Versilia. In esposizione all'interno del campanile, anche una selezione delle bottiglie firmate dall'artista. La mia pittura è una pittura particolare, è un'apertura che proietta lo spettatore in un mondo onirico, un sogno, un qualcosa che tutti dicono che è sereno, tranquillo, magico. E questo mi fa molto piacere, che al di fuori dal contesto di quello che sta succedendo oggi nel nostro mondo. La mostra resterà aperta tutti i giorni, dalle 18 alle 20 e dalle 21 e 30 alle 23 e 30, a ingresso libero. Ci fermiamo per pochi istanti, tra poco la pagina sportiva. Ben ritrovati, siamo alla pagina sportiva, in apertura c'è il calcio in Casa Bianconera, Viareggio 2014, si fa il punto della situazione, si guarda al futuro. Un punto fermo sembra essere Alberto Recolani, che resterà in bianco-nero. Ancora da capire invece se sarà confermato mister Carlo Bresciani. Il servizio di Roy Lepore. La società del Viareggio Calcio ha ufficializzato la figura di Alberto Recolani, come responsabile dell'area tecnica Gian Simone Leonildi, confermato nel ruolo di team manager in attesa, come ha dichiarato il presidente Cristiano Baroni, della risposta dell'allenatore Carlo Bresciani, al quale è stata fatta una proposta per poter proseguire il rapporto con la squadra bianco-nera. Abbiamo fatto una proposta al mister, vediamo fra qualche giorno che cosa succederà. L'auspicio è quello che vada tutto bene, però come abbiamo detto durante la conferenza, per tutti, ripeto è un discorso che non vale certo per il mister, ma per tutti, via Reggini, non via Reggini, soprattutto via Reggini, ci sono comunque dei parametri da rispettare, quindi il progetto sussiste fin tanto che c'è la volontà dei singoli di adeguarsi al progetto. L'amministratore delegato Federico Raffo ha ufficializzato anche l'inizio della campagna abbonamenti e entro la fine del mese in tribuna costerà 100 euro, ingradinato 80, da luglio poi cambierà. Ci abbiamo messo la faccia in questi ultimi sei mesi, il risultato è stato bellissimo, inaspettato, ma di grande gioia, adesso ci impegniamo, continuiamo a metterci la faccia e quindi sicuramente andremo a cercare chi veramente avrà voglia di darci una mano porta a porta. Si è detto onorato l'ex giocatore con 309 presenze in maglia bianconera, Alberto Reccolani, per questo ruolo che gli ha affidato la società. È una soddisfazione bellissima, sapete quanto tengo io a questi colori, a questa città, e nulla, mi hanno dato questa possibilità e spero di fare le cose giuste e per bene. Rimaniamo allo Stadio dei Pini dove giovedì sera si è svolta una festa per la chiusura dell'anno scolastico dell'Istituto Comprensivo d'Arsena di Viareggio, uno spettacolo corale con gli alluni delle sette scuole dell'Istituto che si sono esibite di fronte al pubblico dello Stadio dei Pini, al suono della musica swing prodotto dal vivo dall'orchestra Ponsacco Jazz Orchestra, costituita da 18 elementi, tra i quali spicca la tromba prestigiosa di Marco Bartalini. Presente, come vedete, anche la contrada del ranocchio di Querceta, del Paglio dei Mici, che ha impreziosito la serata. L'Hockey, adesso l'Hockey su pista con il ritorno al palaforte per gara 2 con il Forte Remarmi che se la vedrà di nuovo con il Lodi dopo il K.O. iniziale. Sentiamo. Dopo la prima gara è attesa sabato sera il secondo atto della finale scudetto 2016-2017 alle 20.45 alla palaforte con il Forte Remarmi che vuole riscattarsi dopo lo scivroni di 5 a 4 sulla pista dell'Odi per la gara 1. Ambrosio non è ancora al 100% nelle file dei rosso-blu per un problema alla ginocchio e questo potrebbe essere una cosa importante per i rosso-blu che hanno utilizzato 7 giocatori anche in gara 1 e quindi sul piano fisico il Lodi potrebbe pagare questo. Trascinati da Eric e Turner hanno sfiorato i ragazzi di Bresciani più volte il colpo decisivo. Ci ha pensato poi Català ad essere uno dei migliori della prima contesa, parando diverse palline ben piazzate come aveva già fatto contro il 100 giovani cacciatori. Sembra comunque che l'equilibrio sarà il filo conduttore anche in questa serie di finale e decideranno le condizioni gara dopo gara delle due formazioni. Per ciò che riguarda gli arbitri di questa seconda partita sono stati disegnati Matteo Galoppi di Follonica e Massimiliano Carmassi di Viareggio con arbitro ausiliano Ferrari. Il calcio adesso si è chiuso alla fase eliminatore del torneo dei quartieri versilesi per non dimenticare manifestazione calcistica nata l'indomani del 29 giugno 2009. Vediamo qua come sono le classifiche dei tre gironi. Nel girone A tre squadre appaiate in vetta, ma è Locandari Biscari di Martinelli Vannozzi a vincere il primo raggruppamento seguita alle spalle dal Terminetto che dopo la sconfitta al primo turno ha incasellato due successi. Seguono Fortisca Maiore e Exaviazione. Girone B si impone il Varignano di Crivello con una vittoria e due pareggi. La Darsena che segue al secondo posto Torre del Lago campione uscente si qualifica come miglior terza. Nel girone C a punteggio pieno con tre vittorie la Soveco Massarosa di Andrea Bonuccelli mentre la Croce Verde di Ersiglio Belcore seconda classificata. Eliminate MB Team Lettera 22 e Bayer Versilia. Martedì 13 alle 21.15 ci saranno i quarti tra Locandari Biscari e Torre del Lago al centro polo mentre alle Basalari Varignano, Fortisca Maiore. Mercoledì Soveco con Darsena per Simone e Croce Verde Terminetto. Ricordiamo le semifinali lunedì e martedì 19.20 sul sintetico del Cavanis finale per venerdì 23 giugno allo stadio dei Pini di Viareggio. Per questa pagina sportiva è tutto. Ci fermiamo per pochi istanti. Tra poco di nuovo insieme a terza parte del TG Versilia. Ben ritrovati, terza parte del TG Versilia. Non ci sono aggiornamenti di cronaca. Per questa edizione è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi. Buona serata. Buona serata.